Romina Power in California Romina Power in California, con chi passerà il San Valentino? Per il momento Romina Power si trova in California insieme alla figlia Romina Junior. Qualche settimana fa le due donne, invece erano in Italia per registrare, lo show celebrativo per gli anni di carriera di Albano. E proprio quest'ultimo, oltre ad occuparsi della sua tenuta a Cellino San Marco e fare concerti in giro per il mondo, ha rilasciato anche delle interviste. Il maestro Salentino oltre ad annunciare che nel 2020 molto probabilmente si presenterà al Festival della Canzone Italiana, Sanremo, come cantante, ha espresso anche il desiderio di presentare la Kermesse Canora. Ricordiamo che il cantautore pugliese tra gara e ospitate è salito ben 15 volte sul palco del Teatro Ariston. Oltre da solista anche insieme all'ex consorte Romina Power. Romina Power e il suo clamoroso post per San Valentino. E a proposito di Romina Power, alcune ore fa la cantante americana ha spiazzato tutti con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, l'ex moglie di Albano Carrisi ha deciso di celebrare l'amore a modo suo. La donna ha messo una foto che ritraggono una donna e un uomo completamente nudi con la prima seduta sopra il partner. A corredo di questa immagine l'artista statunitense ha scritto un messaggio. Buon San Valentino a tutti quelli che hanno un partner con cui condividere l'amore. A tutte le persone che in questa vita hanno trovato qualcuno con cui stare in simbiosi. Buon San Valentino da amare. Ha scritto l'ex moglie di Albano Carrisi sul social. Il post in questione ha ricevuto tantissimi likes, mentre i commenti sono stati disabitati per evitare l'introduzione di haters. Sicuramente se ne parlerà molto nei prossimi giorni sui vari social network. Ecco la foto. Ciao. 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 Ciao.